Durante i controlli di prevenzione e contrasto alla criminalità e spaccio di stupefacenti nella zona di Via Piave a Mestre, una pattuglia del commissariato insieme ai militari del reggimento Lagunari ha fermato sabato 11 maggio un gruppo di circa 20 ragazzi, stranieri di diverse nazionalità ma forse anche italiani. Alcuni avevano il volto travisato, si dirigevano verso corso del popolo armati di mazze, bastoni e bottiglie di vetro. Addosso avevano anche coltelli. Tutto è stato sequestrato e per prevenire la pericolosità sociale e altri comportamenti sul generis, il questore di Venezia Gaetano Buonaccorso ha disposto sette da Spowilli che impongono ai giovani il divieto di accedere nei locali pubblici dell'area urbana dove è avvenuto l'intervento di polizia. Inoltre ha disposto un foglio di via nei confronti dell'unico residente fuori dal comune.